Sono giovane e sono affamato. Sto facendo un grande passo. Lì mi è un batticuore, è un'emozione assoluta. Non ho mai sentito una sensazione così. È un ragazzo che ha una forza incredibile e un attacco della porta eccezionale. La sua doria principale è quella di far gol. Musica farà esplodere l'Inghilterra ancora e la squadra, lui è uno ragasso di gioia.